Intanto di dolore, anche sapendo che era malato da parecchio, è sempre la scomparsa di un grande uomo della politica italiana. Del resto io ho fatto anche il Ministro del Lavoro con lui, è un ricordo di un politico eccezionale, conosceva i problemi ed aveva un grande rapporto con il suo elettorato, con chi lo votava. Come passerà la storia con Andreotti? Passerà la storia come uno dei grandi personaggi della DC che hanno contribuito fortemente a far rinascere il problema dopo la guerra e a fare scelte anche giuste e naturalmente la storia poi giudica tutto.